Ciao a tutti raga, sono tornata ufficialmente. Come alcuni di voi sapranno, la mia assenza era dovuta al fatto che ho partorito una splendida bimba, futura tifosa rossonera. Ora che sono tornata non mi resta altro che dirvi bentornati al TG di AC Milan Inside. In vista della partita di domani contro il Parma alle 18.30, oggi Mr. Fonseca ha tenuto la sua conferenza stampa. Visto l'infortunio di Morata e lo terrà fuori dal campo per tre settimane, il sostituto sarà Okafor. Ha poi parlato del dualismo tra Emerson Royal e Calabria, affermando che il primo è più offensivo. Durante la conferenza il mister è stato chiesto anche per quanto riguarda Camarda e la sua convocazione per la partita di domani, ma il mister ha affermato che non ci sarà. Ha inoltre giustificato la sua scelta dicendo che non è questo il momento per creare certe tensioni in questi giovani giocatori. Parlando invece di mercato, il mister ha confermato le parole di Furlani, ovvero nonostante l'offerta del Barcellona per il calciatore, Rafa resterà al Milan. Chi invece è in partenza è Pobega, che sembra aver trovato un accordo assieme al Bologna per 12 milioni. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto. Queste sono tutte quante le notizie di oggi e come al solito vi invito a seguirci su tutti quanti i nostri social. Mi raccomando, vi aspetto! Mi raccomando, vi aspetto!